Buonasera, buonasera a tutti, è un piacere, guarda che figurino, buonasera, grazie pubblico, con un leggero ritardo accademico apriamo questa ventitresima edizione del Grand Prix. Io vorrei prima di cominciare questa serata di premi, tra l'altro con prestigiosi premiati e premiatori, vorrei che salisse sul palcoscenico il nuovo padron, che poi è l'amministratore delegato di questa nuova avventura. Il cognome è già un programma, il dottor Ficara, venga il dottor Ficara. Dottor Ficara. Grazie. Ne ho visti passare almeno 12, sono tutti andati e tutti salivano con la stessa grinta, con lo stesso entusiasmo, con la stessa faccia, con lo stesso entusiasmo, lì sempre pronti a dire siamo forti. Passano due minuti dopo il premio, via, fatti fuori. Guarda, mi ha imbarazzato, però vogliamo dire, abbiamo voglia veramente di riportare la pubblicità a Milano, è un gruppo nuovo, effervescente, dinamico, giovane, anzi ringraziamo i cinque centi, andate è finita, mi hanno già licenziato. No, 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 ma diamo questo spirito giovane, perché quelli precedenti erano tutti dei becchini, invece qui vediamo veramente grinta, mi piace, mi piace molto, siamo partiti col piede giusto. Che cosa ci dobbiamo aspettare dal giornale? Sarà più internazionale, un taglio più cattivo, una telepromozione continua, che cos'è? Allora, no, no, innanzitutto lo facciamo mensile, questo è un bel colpo. Quindi ne arrivano di meno a casa, questo già meglio perché ne arrivano veramente... Però è più alto. Più alto. Hanno delle copertine bellissime, le saranno da collezionare e ci sarà un prezzo speciale. Benissimo, grazie, grazie a te. Cara, mi saluto Piccone, grazie mille, arrivederci. Farei salire sul palcoscenico un rappresentante di pubblicità Progresso e un consigliere del consiglio di amministrazione, non so se esci di qua, di là da sopra, Franco Moretti, venga, esce di qua. Eccolo qua. Ciao. Molto piacere. Molto piacere. Lei è consigliere? Io sono consigliere, sì. Queste nostre pubblicità Progresso arrivano al bersaglio, al target, all'audience? Penso che il pubblico le potrà giudicarle, penso che non siano tra le campagne più efficaci. In Italia potremmo fare molto meglio, nel mondo si fa molto meglio in termini di comunicazione sociale. Moretti, adesso la nostra hostess che sta per entrare ci porta le votazioni, immagino, quindi vediamo quale di queste campagne ha vinto il premio. Ecco che arriva un'antenna, ecco, perfetto. Per la pubblicità. L'avamo cercata più alta, non l'abbiamo trovata. Bene. Ha vinto la campagna per la prima volta qui al Grand Prix, una campagna sfondo sociale, FAO investire in agricoltura, ritira il premio Clara Velez Fraga, della FAO. Mamma mia, quanta gente. Io vorrei ringraziare voi e ringraziare l'equipo di gente che ha lavorato su quello, noi siamo un gruppetto delle Nazioni Unite, c'è un po' gente di tutte le parti, Budi in Inghilaterra, Roberto dell'Italia, Maria Pace che è qua. Questo è un spot che ci fa molto piacere veramente che sia premiato, ma purtroppo ancora un miliardo di persone muore di fame. Allora vi invito a dare supporto alla nostra campagna, andare sul nostro sito, onemillion.org dove potete firmare la nostra petizione, perché veramente l'anno prossimo possiamo fare uno spot con meno milioni. Grazie. Ok, grazie. Grazie, ecco che consegniamo la nostra prestigiosa targa. In bocca al lupo e complimenti per quello che fate. Grazie, grazie anche a Moretti, che rivedremo a Perugia. Sì, è meglio. Prego, vada Moretti. Allora, dobbiamo dare un premio alla comunicazione istituzionale e quindi dobbiamo fare entrare un premiatore che sia all'altezza, ed è all'altezza, adesso la vedrete, bella alta, ed è una ragazza molto giovane che fa l'assessore. Si chiama Silvia Guarniero ed è l'assessore, venga, venga, un applauso, l'assessore a Expo 2015. Allora, lei è qui assessore per premiare, è una persona che ci sta molto a cuore, abbiamo scelto lei perché fa parte delle istituzioni, esattamente come la figura che sta per salire su questo palcoscenico per la prima volta qui al Grand Prix. Prego, ci dia la motivazione e ci dica chi ha vinto questo premio istituzionale. Allora, per aver posto per la prima volta chiaramente in termini di marketing e comunicazione il tema della rinascita del nostro turismo e aver acceso i riflettori sul marchio Italia anche attraverso il rilancio del portale Italia.it, premio comunicazione istituzionale all'onorevole Michela Vittoria Brambilla, Ministro del Turismo. Buonasera signora Brambilla, buonasera, le presento l'assessore, non so se la conosceva, non stiamo così distanti, stiamo più vicini, ci spaventiamo a vicenda, ecco qua. Dunque lei riceve questo ambito premio, ecco che è arrivata la nostra Naomi Camper, siamo un bel quartetto, ecco qua. Il turismo sarà il portatore sano del nuovo che avanza per l'azienda Italia oppure dobbiamo aspettarci altro? Certamente il turismo rappresenta l'asset più strategico per un paese meraviglioso come il nostro, c'è chi dice che sia il nostro petrolio. Negli anni 50 l'Italia era il primo paese per arrivo di turisti di tutto il mondo, poi lentamente abbiamo visto un declino arrivare, anche perché non l'abbiamo mai promosso, siamo partiti sempre dal presupposto che siccome questo sia il paese più bello del mondo, tutti sarebbero comunque venuti a visitarlo, mentre oggi chiaramente la competizione è forte, bisogna tornare a promuoverci sui mercati internazionali. Noi abbiamo quindi voluto promuovere il nostro paese utilizzando il marchio più noto al mondo, il marchio più amato nel mondo che è il marchio Italia, Italy. Allora abbiamo adesso il premio sulla comunicazione sociale e sport, deve salire la signora Fabiani Alessia che è già qua, ecco. Per l'interesse al sociale, per l'attenzione al mondo dell'infanzia e la responsabilità dimostrata verso le fasce più deboli della popolazione, la Fondazione Milan incarna i valori di lealtà, spirito di squadra e collaborazione del calcio giocato. In particolare quest'anno la Onlus Rosso Nera si è distinta per l'impegno profuso in tre grandi progetti di carattere sociale ed esistenziale, la lotta alla sclerosi laterale amiotrofica, la costruzione di un centro ludico sportivo a pagliare di Sassa in provincia dell'Aquila, per i giovani terremotati d'Abruzzo il progetto Maternità Sicura rivolto alla popolazione haitiana devastata dal terribile sisma dello scorso gennaio. Ritira il premio Franco Baresi. Franco Baresi, che piacere, non sia timido, Franco eccolo qua. Ogni volta che entro si crea il gelo. Ringrazio per questo riconoscimento prezioso. Beh, un bel riconoscimento anche per quello che lei fa, per lo sport e per la fondazione che non è uno scherzo. Per chi soffre è giusto essere attenti. Ci manca Baresi, lei ci manca perché è un volto pulito del calcio italiano. Grazie, grazie. Grazie a me. Arrivederci, complimenti. Arrivederci di nuovo, arrivederci. Arrivederci, alla prossima volta. Alla prossima, arrivederci. Altro premio, un altro premio molto importante, è un premio al direttore dell'anno, i direttori in Italia sono molti, ma il premio lo diamo ad uno solo. Entri, una valida giornalista che sarà premiatrice di questo direttore, il più giovane direttore dei quotidiani italiani. Entri, Teresa Gelisio, eccolo qua. Venga, venga la signora Gelisio. Buonasera, buonasera. Aveva il compito difficile di raccogliere alla stampa il testimone da un direttore importante come Giulio Anselmi. Ma non si è contentato di ribadirne il successo mantenendo la stessa ricetta. Il quotidiano di Torino è oggi infatti il terzo giornale italiano, avendo accresciuto il suo peso e la sua autorevolezza e avendo pure una delle più brillanti ed efficaci declinazioni online dei propri contenuti. Premio direttore dell'anno a Mario Calabresi. Venga, ho detto che lei è... Siamo vestiti uguali. Siamo vestiti molto simili. Ecco, venga, ci mettiamo solo per sentire dalla sua viva voce. Lei è un super direttore, è stato inviato di Repubblica, la guardo dall'alto al basso perché lei è un uomo che conta. Ecco, lei è il giovane e dei direttori. In questo paese è più difficile fare il giovane o fare il direttore? Forse fare il giovane. Fare il giovane. C'è un bel vocione, però, Calabresi. Decisamente sì. Mi fa piacere averla conosciuta perché io leggo sempre il suo giornale, che è anche il mio e lei porta anche, peraltro, un nome molto importante. Io vorrei ricordare, non per fare, come dire, della facile retorica, ma proprio oggi, il 17 di questo mese, nel 1972, suo padre veniva ucciso barbaramente da un atto terroristico dell'estrema sinistra. Mi faceva piacere ricordarlo. Grazie. 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 Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Bye bye. Bye bye. Abbiamo adesso il piacere di introdurre un giovane che viene dal Belgio e ha un nome curioso, infatti si chiama Deco. Deco si chiama, è semplicemente Jean Deco e lo farei entrare. Venga. De show. De sci. Niente. Sembra un concorrente della Pupa e il secchione, però è invece, è invece è un personaggio molto carino, tanto è alto come me, molto carino, che ha un ruolo molto importante in Italia e in Belgio, ma partiamo dal suo cognome. Ci dice la pronuncia esatta? No, partiamo dal fatto che sono nato in Francia, a Parigi. Ah, non in Belgio? No. Ah, per lei i Belgi sono robaccia? Eh, lo so. Business. Business, solo business. Lei è nato a Parigi, ma si chiama? Deco. Ah, Deco, come avevo detto all'inizio, Art Deco, infatti, famoso. Posso? Prego. Vado. Introduco? Introduca. Prego. Introduco. Quindi, introduco quello che è scritto. Lineare, originale, forte, capace di tornare a sorprendere e innovarsi, nel caso di Diesel, che avete visto prima, oltre al business, sono internazionali il vissuto e la vitalità del marchio e della sua comunicazione, che come migliori esempi della creatività made in Italy, trascende le logiche tradizionali di tanta, sia pure efficace, pubblicità nazionale e riesce a lasciare il segno. Premio comunicazione e innovazione al signor Renzo Rosso, fondatore di Diesel. Renzo Rosso è sicuramente un fenomeno, perché pur nato da radici contadine, a vent'anni con la prima Singer, quella della mamma, cuce un primo paio di jeans. So tutto. 15 anni? 15. A 15 anni già avevi in testa l'idea di fare i jeans, che poi sono diventati tutto, ma i jeans sono la forza di Diesel e lui li ha venduti ed è sfondato addirittura negli Stati Uniti. È come dire, non so, vendere l'erba a Morgan. È la stessa cosa, più o meno è la stessa cosa. Allora, bene, noi ringraziamo il guru della nuova comunicazione. Facciamo entrare la nostra meravigliosa signora Campbell e foto per i fotografi. Grazie. Io saluto Montpetit. Ciao. Ci vediamo tanto, a presto. Saluto Montpetit. Ciao. Ciao, a presto. Ciao, arrivederci. Adesso dobbiamo premiare invece la comunicazione e-sport. È stato premiato uno sportivo di valore, un bel ragazzone, un figo della Madonna, come si dice, che però non è presente in sala. Ci manda un suo video messaggio. Sto parlando del nuotatore Filippo Magnini. Prego, eccolo là. Buonasera a tutti. Ciao, Piero. Come vedi, ero già pronto per venire in teatro da te a ritirare questo bellissimo premio. Però all'ultimo minuto la Nazionale mi ha chiamato e quindi ho dovuto infilarmi il costume e partire per l'America. Sono veramente onorato di questo premio che non mi aspettavo. Ti ringrazio ancora. Ciao a tutti e buona serata. E vabbè, comunque il premio l'ha preso e abbiamo visto anche come è fatto sotto, meglio sopra. Adesso è la volta di invitare sul palcoscenico un personaggio molto, molto importante e quindi per introdurlo abbiamo bisogno di un altrettanto personaggio delle istituzioni. Abbiamo l'assessore alla sanità del comune di Milano. Io farei entrare prima lui, Giampaolo Landi di Chiavenna, che viene per... Buongiorno. Buonasera. Buonasera, assessore. Umberto Veronesi ha portato l'Italia a essere un punto di riferimento per la ricerca sul cancro in ambito internazionale. La sua creatura, l'Istituto Europeo di Oncologia, è citato come un esempio in tutto il mondo. Nella comunicazione ha messo in gioco se stessa e ha saputo utilizzare con efficacia gli strumenti per rendere comprensibili ai familiari i temi della prevenzione e la fiducia nella guarigione. Ha saputo usare i nuovi media dando vita al progetto Science for Peace, un grande movimento per la pace, sostenuto dal mondo scientifico. Premio Comunicazione e Ricerca al professor Umberto Veronesi. Valetta non si dice più cervello e grazie. Ci rivediamo il prossimo anno. Grazie assessore. Grazie a tutti. Complimenti anche per la fettinatura. Grazie mille. Comunicazione e spettacolo è un altro dei premi. Stiamo arrivando alla conclusione. Entra un mio amico, un bel ragazzo, Sergio Muniz. Eccolo qua. Guarda che roba. Sergio Muniz. Perfetto conuvio di bellezza e generosità. Lo spettacolo si tinge di solidarietà. Sempre sensibile al sociale, Eleonore Casalegno, non sei tu? No. Ah, l'hai messa in testa. Quasi il doppio. Eleonore Casalegno si è distinta per aver prestato nel 2009 il suo volto alla campagna di comunicazione Giamma Mai. Devolvendo l'intero ricavato in beneficenza. Premio, comunicazione e spettacolo va a Eleonore Casalegno. Buonasera. Ancora una volta sopra una zattera. Ecco qua. Bene, bene. Facciamo la giravolta. Complimenti. Ecco la signora Casalegno che è stata anche una grande miss. Che piacere. La vedo cresciuta dall'ultima volta. Allora, ecco, se vogliamo dare il premio alla signora. Grazie. Ecco, io non voglio essere impallato. Ecco, mi metto qua. Non l'è mai capitata. No, così, no. Una volta in montagna, ma c'era lo ski lift. Prego. Quando si parla... Dove va lei, scusi? A fare la piscia? Allora, siamo arrivati a un premio a cui noi teniamo molto. C'è tutti gli anni, ma quest'anno l'abbiamo un po' cambiato perché le scorse edizioni, molti di voi c'erano, era un premio che balbettava. Cioè, il premio dedicato al mondo dei giovani, per i giovani, con i giovani. Diceva, abbiamo scelto la campagna, tra quelle che abbiamo visto, realizzata dall'equip di Under 30. E quindi adesso noi chiamiamo la signora Silvia Burgio. Quest'anno il Grand Prix, per migliori strategie di marca, ha voluto premare la coppia creativa più giovane entrata nella short list del premio. L'intento di Young Prix è quello di scoprire e valorizzare i giovani talenti creativi che lavorano nelle agenzie italiane. Il premio Young Prix per migliore coppia creativa Under 30 va a... Elisa Binda, copywriter. Venite, venite, musica. Entrino i giovani del primo Young Prix. Vito Labrocca, Art Director. Benissimo, avanti Labrocca. Dell'agenzia J. Walter Thompson per la campagna Beer Gloss Heineken. Siete di Milano? Di Lecco. Lecco Lecco? Sì. Ok. Va bene, facciamo entrare la nostra migliore. Aisha. Si chiama Aisha e ha lavorato al Chiambretti Night l'anno scorso. E stasera l'ho ritrovata, voilà qui, più alta di 6 centimetri. Grazie. Grazie Young Prix. Andiamo? Sì, beh, meglio perché ringraziamo tutti. Grazie. Grazie. È stato un piacere. Arrivederci. E adesso c'è il premio del New York Festival. Voi sapete che le nostre campagne, quelle che abbiamo visto poc'anzi, sono state proiettate a New York dai professionisti americani, no? Noi diciamo che gli americani sono i migliori e quindi dobbiamo vedere come loro, gli americani, hanno votato noi che siamo qui. Ma facciamo entrare Michael O'Rourke. Eccolo qua, Michael O'Rourke. Se ci dice qual è il vincitore... Puoi dire chi è il vincitore? Il vincitore è... Ritirano il premio Michele Vucci e Paola Calaresi, brand and communication manager di Sky One, Francesco Poletti e Serena Di Bruno, direttori creativi di 1861 United e poi Paolo Zaninello di Akita Film. Grazie, complimenti! Gli americani hanno premiato Sky, io lo dico tutti gli anni, Sky fa delle ottime campagne, sono sempre tra le più gradite. Non diamo il premio a questi due ragazzi? Sì, facciamo entrare la nostra Aisha per un premio che meritano i ragazzi di Sky, per il soggetto Tears, lacrime. Adesso, tra un istante, chiameremo il gran capo. Assolutamente! Lo vogliamo chiamare subito? Il grande Rino Moffa, editore di UN Media Group! Dai, un applauso! Rino Moffa ce la mette tutta! È un altro miracolo italiano, quello che noi aspettiamo da Moffa. Ecco qua, di fronte al meglio, alla creme della creme della pubblicità italiana, noi ci aspettiamo grandi cose dal giornale e dal suo gruppo, Neo Groupo. Ce l'aspettiamo un po' tutti, veramente, anche perché vorremmo dare vita a un nuovo corso della comunicazione in Italia, cercando di coinvolgere anche i giovani che vediamo in galleria. Che è stata una buona idea invitare questa sera. Per la prima volta, al ventitresimo anno, diciamo, del Grand Prix, abbiamo voluto invitare proprio per rinnovare la creatività italiana, che è molto forte. La comunicazione è un segno, è un segno questo, della partenza del nuovo corso. Le prime tre posizioni, attenzione, terza, Eyniken, Beer Gloss. Questa era buona, eh? La Eyniken è sempre fortissima, tutti gli anni, quest'anno non vince, andiamo al secondo posto. Ikea, Easy Change. E quindi, forse a sorpresa, forse no, l'edizione 2010 va da pannaggio di... E' piaciuta, è piaciuta, è piaciuta a tutti, quindi la democrazia ha vinto, la democrazia ha vinto. Il campaglietto. Sal. Sai. Torino. C'è sempre Torino di mezzo. Eccola qua. Sky HD. Sky vince sempre. Speriamo nei programmi adesso, perché gli spots sono belli, programmi molto meno. Allora, Moffa, se vuole dare il premio ai responsabili della comunicazione di Sky, lacrime. Ecco qua, diamo. Dimenticavo il premio. Il premio è, come sempre, bellissimo, è un oggetto di culto. Grazie. Complimenti. Grazie. E' pesantissimo. Pesantissimo che l'ho. E' molto bello. Ha paura a prenderli in mano. Ha vinto lo zecchino d'oro. Meraviglia. L'applauso, ovviamente, va condiviso con tutti gli amici in sala, tutte le campagne creative. E con questa bella immagine vieni anche Aisha. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo anno. Grazie. Buonasera. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.